Sindaco, perché tale ancora è, è stata forse una doccia fredda o qualcosa che si aspettava? Queste dimissioni in massa di numerosi consiglieri comunali, di due assessori, che praticamente di fatto hanno messo fine al suo mandato? Sì, ma se me l'aspettavo o meno questo... Diciamo che c'erano stati dei sentori, perché il fatto che anche il documento che è stato fatto rispecchia un po' le motivazioni, opinabili chiaramente, perché con un paese così in ginocchio, parlare di appartenenza politica, di tessere, credo che a gran parte dei cittadini non interessi molto questo, ma interessi la risoluzione dei problemi, cosa che in pratica è stata anteposta rispetto a quello che è il punto di vista personale e quello che erano le proprie convinzioni. Io sono convinto che Montorio ce la possa fare, ma soprattutto mi auguro che se ci deve essere il commissariamento che sia breve per Montorio, perché ha bisogno di una guida, così come credo che sia stato fino adesso presente e che sia in grado di portare avanti le problematiche di Montorio. Ripeto, ci sono cose grosse per Montorio, la Residenza per Anziani, con 70 posti letto, penso che sia un qualcosa che Montorio non ha mai avuto, quindi sono risultati che non è che si possono ascrivere ad altri. Per parlare infine del fatto che siamo riusciti a riaprire la Chiesa di San Rocco, e lì me la prendo tutto il merito, per la prima volta dico che è tutto merito mio quello lì. Che cosa si sente di dire a tutti i cittadini montoriesi in questo momento? I cittadini montoriesi, devo dire che mi dispiace, che probabilmente molti di loro si sentono traditi, io sicuramente non li ho traditi. Sono rimasto al loro fianco nei momenti più difficili, nei momenti duri della nevicata, del terremoto, ed ho fatto come primo cittadino, cioè come colui che si mette in prima fila per risolvere i problemi. Ecco, mi emoziono soltanto pensanti ai cittadini, della politica non mi importa niente, non mi importa dell'appartenenza del PD o di altre, di Forza Italia, di altre cose. A me interessa Montorio, ho lavorato per Montorio, ci ho creduto, ho dato l'animo, il cuore e tutto me stesso. Spero soltanto che almeno rimanga il ricordo di un sino che si è impegnato e che ha dato tutto quello che poteva.